Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io, in questo secondo video della serie dedicata all'educazione finanziaria. Nel primo video abbiamo parlato del meccanismo con cui si formano i prezzi, cioè dal punto di incontro tra la domanda e l'offerta, almeno in un mercato competitivo. Ma abbiamo anche detto, proprio in quel video, che il prezzo è un numero che ha senso solo se è riferito ad una certa unità monetaria, cioè 6 euro, dollaro, rembibbi. E quindi oggi parleremo appunto di quell'unità monetaria, cioè la moneta. Di per sé, il fatto che accettiamo di scambiare il nostro tempo, il nostro lavoro o degli oggetti che possediamo, che produciamo, in cambio di pezzi di carta o di metallo o di numeri all'interno di un computer, è allo stesso tempo sconcertante e meravigliosa. Meravigliosa perché ci fa capire quanto sia straordinaria la specie umana nel coniare delle convenzioni sociali che ci hanno permesso e ci permettono di godere di un progresso che è fantastico, se comparato alle condizioni di vita di qualunque altra specie animale. Perché la moneta è fondamentalmente questo, una convenzione sociale. In primis, decine di migliaia di anni fa, l'umanità si rese conto che era meglio scambiare il proprio tempo, il proprio lavoro e le proprie merci, piuttosto che fare tutto da soli, in una economia che viene detta di autoconsumo. Nasce quindi l'economia di scambio, ma i primi scambi che avvenivano tramite il baratto avevano una forte presupposto alla base, cioè la doppia coincidenza di bisogni. Cioè il fatto che se io scambio un oggetto per un altro oggetto che tu mi dai, beh, allo stesso tempo noi dobbiamo avere necessità dell'oggetto che stiamo scambiando e dobbiamo concordare sul valore che attribuiamo a quel determinato bene o servizio. Le prime monete merci nascono quindi proprio con lo scopo di fornire un oggetto il cui valore intrinseco sia concordato da entrambe le parti in causa e anche che siano facili da trasportare, e quindi si passa dai capi di bestiame alle conchiglie, dal sale al tabacco, fino ad arrivare ai metalli e ai metalli preziosi. Al fine di garantire il suo valore intrinseco, ben presto si afferma la moneta coniata in metallo prezioso dalle autorità statali, che la utilizzano anche specie con le loro effigi per dimostrare la propria autorità. Il fatto però che gli stati siano più o meno liberi di produrre la loro moneta, un potere che viene detto appunto signoraggio, fece sì che molto spesso si verificassero fenomeni in cui le monete venivano svilite, cioè si riduceva il contenuto di metallo prezioso al loro interno in modo da rimpinguare l'erario. Allo stesso tempo le prime banconote appaiono in Europa intorno al XVII secolo, anche se già in Cina se ne riporta un primo utilizzo intorno all'Ottocento d'Apocristo e sono il primo mezzo di pagamento che è privo di un valore intrinseco. Le banconote, le note da banco, venivano immesse dalle banche, che sono imprese che gestiscono il denaro di altre persone e che le emettono in modo tale da garantire di non doversi portare i propri metalli preziosi in giro, ma di aver assicurato il fatto che se volesse convertire la loro banconota in metallo prezioso potrebbe farlo in qualunque momento. La convertibilità in metallo prezioso era quindi alla base del valore dato alle prime banconote. Gradualmente, per evitare in particolare che le banche mettessero più banconote rispetto alle riserve aure che possedevano, gli stati decisero di regolarne l'emissione fino a renderla possibile solamente per la cosiddetta banca centrale, che è un'impresa diversa dalle altre banche perché non è a scopo di lucro. La convertibilità in oro della moneta fu definitivamente abolita nel 1971 con la fine degli accordi Bretton Woods, che erano stati presi verso la fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1944. E da quel momento, quindi, tutta la moneta in circolazione, quella che utilizziamo noi nella nostra vita quotidiana, viene chiamata ed è moneta legale, o moneta fiat, dal latino sia così. La moneta legale, che ha valore proprio in quanto esiste un'autorità statale che ne garantisce tale valore, può essere sia cartacea, quindi le banconote, anche le monete che utilizziamo, appunto i contanti, sia bancaria, moneta bancaria significa che è una scrittura contabile, cioè c'è un registro in una banca che segna giù che noi possediamo quel determinato ammontare di denaro, sia elettronica, cioè il credito verso l'istituto che lo emette è memorizzato su di un dispositivo elettronico. La moneta legale ha tre proprietà fondamentali. Essa è riserva di valore, è mezzo di scambio e unità di misura. È riserva di valore perché esiste, appunto, l'autorità statale che ne garantisce tale valore e che, in teoria, si dovrebbe adoperare perché tale valore rimanga costante nel tempo. Quindi, se è riserva di valore, può essere risparmiata, appunto confidando che, anche nel futuro, varrà quanto vale oggi. È mezzo di scambio perché può essere, appunto, scambiata e, in particolare, chiunque venda qualcosa è obbligato ad accettarla come mezzo di pagamento. Anche lo Stato, quando utilizziamo la moneta, appunto, per pagare le tasse. Infine, è proprio quell'unità di misura di cui parlavamo all'inizio del video e anche nello scorso video, cioè quell'unità monetaria in termini della quale noi esprimiamo il numero, che è il prezzo, con il quale determiniamo il valore di scambio dei beni e dei servizi che possono, appunto, essere scambiati. La stabilità del valore della moneta legale è garantita dalla banca centrale, ma questo, a volte, può non essere sufficiente e avremo quella che è nota come inflazione, di cui però parleremo nel prossimo video. Oggi ci sembra normale che lo Stato italiano non possa stampare moneta liberamente, cioè che non detenga il potere monetario, accanto agli altri ben più celebri poteri, i quali il potere giudiziario, il potere legislativo, il potere esecutivo. Ma fino al 1981 la banca centrale italiana era dipendita dal Ministero del Tesoro, che poteva decidere di far stampare alla banca centrale più denaro, in realtà, tecnicamente, di far comprare dalla banca centrale dei titoli di Stato italiani per garantire una maggiore spesa pubblica. La decisione di rendere indipendente la banca centrale italiana dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvenne in un periodo di forte crisi economica e di elevatissima inflazione e ebbe come conseguenza il fatto di riuscire a mitigare un po' quell'inflazione ma soprattutto di rendere responsabili i governi nelle loro azioni di politica economica di fronte alla cittadinanza perché appunto devono tener conto del fatto che i soldi sono in una quantità finita. Con l'entrata in vigore dell'euro, infine, non è neanche più la banca centrale italiana a possedere il potere monetario, bensì, nell'ambito di tutta l'eurozona, la banca centrale europea che decide anche le azioni di politica monetaria per determinare quale sia il valore della moneta legale. Ma di questo e anche di questo parleremo nel prossimo video. Prima di salutarci penso che sia il caso di accennare ad un nuovo tipo di moneta che si sta affermando almeno nell'ultimo decennio anche se ancora rappresenta una quota estremamente minoritaria rispetto al totale volume degli scambi economici. E questa è la moneta virtuale il cui esempio più evidente è quello dei bitcoin di cui però ho già parlato in un altro video qualche anno fa che vi lascio qui sotto in descrizione e anche al link qui in alto. Essa si distingue dalla moneta legale perché non esiste alcuna autorità che ne garantisca il valore che è invece garantito dal meccanismo della blockchain di cui appunto ho parlato in quel video. Ma è bene ricordare che moneta virtuale e moneta elettronica sono due cose ben distinte. Come abbiamo detto la moneta virtuale è tale perché non è regolamentata mentre invece la moneta elettronica è una delle diverse forme di moneta legale che sono oggi in circolazione. Facendo le ricerche per questo video mi sono anche posto una domanda che presumo mi possiate porre anche voi. Cioè com'è possibile che con tutta la quantità di denaro che c'è in circolazione il numero di soldi nel nostro conto corrente sia così a riparo da attacchi informatici o che non siamo semplicemente liberi di modificarlo e di incrementare arbitrariamente i nostri soldi? La risposta a questa domanda sta ovviamente nel fatto che esistono sistemi di sicurezza incredibilmente sofisticati in tutte le varie banche anche sistemi di ridondanza in cui questi numeri vengono salvati in più posti differenti. Ma la cosa fondamentale che protegge la sicurezza della moneta legale nel caso della moneta elettronica è in realtà il libro mastro che è appunto quello che viene tradotto in blockchain nel caso della moneta virtuale da quello che deriva il suo valore. Cioè le banche non hanno semplicemente il numero di soldi che sono presenti nel nostro conto corrente ma mantengono anche un registro di tutte le transazioni economiche che sono avvenute sul nostro conto e sui conti di tutti e ovviamente ad ogni entrata ed uscita su un determinato conto corrispondono una uscita e un'entrata rispettivamente sul conto di qualcun altro e quindi è evidente che se per caso un hacker dovesse modificare i valori dei soldi beh dovrebbe assicurarsi di cambiare il valore di queste transazioni in tutti i registri possibile quindi nel caso in cui si verifichino delle incongruenze beh si può semplicemente rifare il calcolo di entrate e uscite e vedere se i numeri corrispondono e con questa curiosità quindi io vi ringrazio per avermi seguito in questo secondo video dedicato all'educazione finanziaria vi chiedo ovviamente di condividerlo vi aspetto nei commenti per domande o critiche e noi ci vediamo al prossimo video